ciao amici andiamo a vedere insieme questo nuovo video seguitemi bene farò questo questo pane con solo la semola semola rimacinata eccola qua questo è il mio licoli che avevo rinfrescato già da 4 5 ore prima lo vado a sciogliere con una parte dell'acqua della ricetta farò un autolisi quindi un autolisi con direttamente con il lievito ecco qua metto ancora acqua e bagno per benino la farina la simola la simola assorbe abbastanza bene l'acqua io adesso ho preparato 400 grammi e anche perché c'è il licoli che comunque un lievito liquido quindi diciamo che sta intorno al 70 per cento di idratazione e l'autolisi con il lievito non è che si usa molto fare questa cosa l'autolisi si fa solo acqua e farina però sto facendo questa prova vediamo come viene faccio riposare 30 minuti così coperto questa è l'acqua che è rimasta che metterò la metterò dopo quando allora passato il tempo eccola qua vedete come già sta lavorando l'autolisi sta già formando la maglia glutinica senza fare niente senza impastare aggiungo aggiungo ancora un po d'acqua e poi faccio girare con la planetaria prima piano e la restante acqua la metto mano a mano così piano piano dicevo questa è semola rimacinata e per il pane più adatta la semola come sapete è una farina che si ottiene dal grano duro mentre dal grano tenero si ottengono gli altri tipi di farina tipo 2 tipo 1 0 e 00 che è quella più raffinata questo invece il grano duro tra cui poi c'è la senatura cappelli che è molto molto rinomata come farina ho fatto incordare all'incirca 10 minuti quando l'impasto si attorciglia al gancio e la ciotola rimane pulita direi che è pronto ora lo metterò come al solito in un contenitore e ci farò un giro di pieghe in questo modo lo giro anche così e poi lo copro e lo lascio lievitare 4-5 ore il tempo che ci vuole per raddoppiare eccolo qua a temperatura ambiente l'ho ottenuto quindi farò questo pane in giornata ok adesso metto l'impasto sul piano di lavoro con un po' di semola voglio provare a fare la formatura quindi passerò direttamente alla formatura come si fa con il pane di matera vediamo vediamo se mi ricordo perché è tanto che non lo faccio il pane di matera appunto si fa con la semola anche non rimacinata credo e si fa una formatura particolare che adesso vedremo allora lo allargo così quindi vado direttamente a formare salto il solito passaggio di pieghe che si fa ma qui vedrete comunque ci sono le pieghe e poi si passa direttamente a formare questo pane ecco qua piego la prima parte così molto bello l'impasto si presenta bene piego anche la parte sotto ok vediamo se mi ricordo perché dovevo ripassare un attimino vedere che ho già un altro video l'abbiamo fatto insieme con il gruppo nuvola un amore di pasta madre poi si preme così con il braccio al centro si ripiega così ecco qua vedete si abbassa un pochino perché questo poi in forno tende ad alzarsi molto vabbè insomma ci provo non è che sono bravissima a fare questo pane di matera però il metodo è questo ok abbassa un altro pochino e poi vanno fatti tre tagli così faccio piano che non voglio graffiare il piano di lavoro ed eccolo qua ok adesso lo faccio lievitare ancora quindi oggi fa caldo un paio di orette dovrebbero bastare quindi lo metto su una teglia sopra la carta forno così poi quando andrò ad infornare mi resterà più facile lo copro con un telo dopo aver messo un po' di semola anche sopra sopra e sotto e aspetto che lieviti eccolo qua è pronto da infornare l'ho fatto scivolare sulla teglia calda con la pala come di solito faccio e vedete come bello si sta gonfiando e si sta colorendo vi metto in descrizione il metodo della cottura bene io direi che è venuto abbastanza bene che dite diciamo che anche se non sono esperta a fare questa formatura però direi che va bene è bello croccante sentite bello molto bello poi vedremo l'interno anche se la simola come sapete non rimane sempre un po' compatta ma vediamo com'è è ancora un po' tiepido però ho fretta di tagliarlo di solito il pane non si taglia caldo però in questo caso ci serve e poi si sente un buon profumino che mi è venuta voglia comunque di tagliare io direi che va bene no? è abbastanza bello è profumatissimo non vedo l'ora di assaggiarlo bene amici un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao